Buonasera a tutti e benvenuti. Solamente poche parole per ringraziare gli autori di questa splendida guida al paesaggio vegetale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il professor Filibe, la dottoressa Cancillieri e il dottor Rosati che oggi non è presente. Li vorrei ringraziare per aver accettato il nostro invito a presentare questa guida nell'ambito della rassegna incontri con l'autore ideata dal sistema bibliotecario di Ateneo. Ringrazio tutti voi per essere presenti, ringrazio anche le persone che sono in collegamento da remoto e grazie, grazie veramente a tutti e lascio la parola agli autori e alla professoressa Scoppola e alla dottoressa Lisoni che modereranno questo incontro e scopriremo molte cose interessanti su questo parco e probabilmente quello che scopriremo ci invoglierà a fare delle escursioni in questo parco, magari le potremo programmare per la prossima estate. Grazie a tutti e buon proseguimento, buon lavoro. Prendo la parola. Grazie, buonasera. Dunque, io sono molto contenta e onorata di essere qui. Vengo ogni tanto, continuo a partecipare a qualcuna delle attività che l'università e il gruppo dei geobotanici organizzano, quindi sono qui con grande piacere a presentare, a dire due parole sul gruppo di lavoro e sull'opera che hanno realizzato, ma proprio dirò semplicemente due parole. Volevo sottolineare questo fatto, lo studio del paesaggio vegetale e di un'area così vasta come quella del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. Non è una cosa semplice. Si vede una pubblicazione, una bellissima pubblicazione piena di fotografie, ma il contenuto di questa pubblicazione è un contenuto che è il risultato di un lavoro complesso, di un lavoro che non tutti riescono a fare, non tutti sanno fare. Cioè arrivare a pubblicare un volume di questo genere vuol dire veramente essere maturi, essere arrivati alla maturità. Quando io studiavo in Francia, il mio professore mi disse per poter dire di essere un geobotanico, di conoscere il mestiere, intanto devono passare diversi anni dalla laurea. Ma non basta questo. Bisogna poter partecipare a dei gruppi di ricerca, quindi lavorare in collaborazione. Bisogna coordinare un gruppo di ricerca su un progetto importante e bisogna pubblicare non solo una semplice pubblicazione scientifica, può essere una nota floristica o una nuova associazione, ma pubblicare un volume, un volume che sia una sintesi di quello che si è studiato nel territorio, dove tutte le caselle abbiano la loro collocazione. E parliamo di un mosaico, la vegetazione, il paesaggio vegetale è un mosaico di vegetazioni diverse. Quindi incasellare tutte le vegetazioni al posto giusto, far chiudere il cerchio, far arrivare a poter descrivere tutta la vegetazione, tutti i paesaggi vegetali di un territorio così vasto, veramente non è una cosa semplice. Mi immagino che sono anni di lavoro, ci sono dietro anni di lavoro che non sono soltanto questi ultimi in cui si sono concretizzati magari dei progetti di ricerca e quindi siete riusciti a pianificare anche il lavoro in campo e arrivare poi a programmare questa pubblicazione. Ci sono conoscenze pregresse, c'è l'amore per quel territorio, l'amore per lo studio della vegetazione, la capacità di riconoscere le piante. Ricordiamoci che alla base di un lavoro del genere c'è la conoscenza delle specie che vanno a caratterizzare le varie comunità vegetali che costituiscono poi i paesaggi. Quindi io conosco gli autori, li stimo molto, sono molto contenta anche del fatto che andando in pensione lascio la geobotanica del nostro dipartimento e dell'Università della Tuscia, delle persone qualificate che andranno avanti e svilupperanno sempre di più questo settore nella nostra sede universitaria, accrescendo anche il gruppo, mi auguro. Però devo dire che questo lavoro mi è piaciuto al di là delle persone che l'hanno realizzato per come si presenta, per come si presenta l'indice. L'indice è fondamentale, l'indice di un libro. L'indice deve essere accattivante ma allo stesso tempo deve essere ben organizzato e ci mostra un indice ben organizzato anche la capacità di sintesi degli autori nell'aver messo nell'indice un po' tutta la storia, tutto il contenuto del libro e attrarre anche i lettori con delle voci, delle curiosità. Faccio solo l'esempio, ci sono delle schede di approfondimento. Vieni c'è un quadrato nel bosco, mi incuriosisce anche me che sono del mestiere oppure paesaggi in movimento, paesaggi in movimento e ancora il vestito del bosco oppure nobili signore le foreste vetuste quindi dei titoli che sono accattivanti, che sono per tutti ma che stimolano anche noi che siamo del mestiere a andare a approfondire questi capitoli e devo dire anche la cura con cui sono, io l'ho letto, l'ho divorato l'ho divorato e non sono riuscita a concludere nemmeno la lettura di questo volume mi mancano due capitoli e due cose voglio sottolineare nella lettura di questi capitoli ci si immedesima e ci si sente in mezzo al bosco, in mezzo alle praterie ci si sente proprio circondati dalle piante che vengono citate la prima cosa e quindi è veramente emozionante leggere questi diversi paesaggi e la storia di questi paesaggi, quindi prima cosa i contenuti che sono altamente scientifici ma presentati in maniera molto accattivante e semplice altra cosa le didascalie, non si curano mai le didascalie delle figure qui ci sono tantissime figure bellissime, fotografie di piante, di paesaggi ma le didascalie, la lettura delle didascalie ci insegna altrettanto quanto il testo ci dice e quindi la lettura delle didascalie e la cura con cui sono state riportate informazioni importanti nelle didascalie, un'altra cosa che mi ha colpito e ancora una cosa che mi ha colpito la scelta della nomenclatura, la scelta del glossario quindi i termini scientifici presentati in maniera semplice e laddove sono termini più complessi la presenza di un glossario essenziale non sono pagine e pagine di glossario, nessuno poi consulta il glossario essenziale, i riporti, le note forse i numeretti sono scritti troppo piccoli per chi come me non ha poi questa vista e quindi ecco quello posso dire, ci ho avuto un po' di difficoltà a collegare però direi veramente è un testo completo io sono soddisfattissima di vedere questo testo è logico che adesso siamo nel 2023 un testo così non potevamo immaginarcelo 20 anni fa o 30 anni fa quando i primi colleghi botanici, Bazzichelli, Anzalone che hanno esplorato il territorio del parco hanno cominciato a pubblicare brevi note lavori anche molto puntuali, importantissimi, fondamentali all'epoca che sono stati certamente anche la base e consultati e sono stati la base di tanti discorsi che sono qui riportati e come anche tanti lavori di floristica non ultima la pubblicazione della flora, del parco però direi che parlare del paesaggio vegetale quindi non soltanto di un tipo di vegetazione di un'associazione vegetale o della flora ma parlare di tutto il paesaggio vegetale è un'impresa che è a un livello superiore rispetto a tutto quello che di scientifico è stato già pubblicato è un testo divulgativo ma sapete che scrivere un testo divulgativo se non siano delle basi scientifiche non sarà mai un testo divulgativo a questa altezza quindi è difficile scrivere un testo divulgativo se non si conosce, non si è studiato il territorio dal punto di vista scientifico quindi io sono molto soddisfatta di essere qua ripeto, di averlo letto non di corsa infatti non l'ho concluso ma di aver imparato anche tantissime cose alcuni ambienti mi erano più noti altri meno di aver imparato tantissime cose ancora c'ho tanto da imparare è una guida il paesaggio vegetale del parco è una guida che si dovrebbe portare in giro bisogna veramente come io mi sono sentita proprio coinvolta da questa vegetazione e sarebbe molto bello appunto leggerlo proprio immersi in questa vegetazione e così farò quest'estate quando andrò come tutti gli anni a passare qualche giorno di vacanza al parco l'unica cosa un po' pesante e quindi chi come me deve ridurre il peso nello zaino portarsi questa guida che pesa quasi un chilo e comincia ad essere un po' completo per i giovani no mettetelo dentro ma io devo scegliere mi porto un litro d'acqua mi porto la guida mi porto mezzo litro mi porto la guida l'unica cosa che io auspicherei è che si possa poi avere un pdf almeno delle escursioni cioè portarsi caricarsi sul cellulare le escursioni e leggerle e medesimarsi durante l'escursione perché ci sono informazioni interessantissime passo passo le escursioni ci sono dieci escursioni descritte in fondo al volume alcune delle quali conoscevo già e altre farò quest'estate e sono descritte passo passo cioè si arriva alla biforcazione del sentiero si guarda sulla destra e si vede questo paesaggio si vede questa associazione questa fioritura se si va in primavera e queste bisogna averle con sé quando si andrà a camminare nel parco io penso che avrà e mi auguro un grande successo anche come libro di testo se vogliamo nei nostri corsi di geobotanica perché è una sintesi di tutto quello che vi insegniamo anche nei corsi di analisi e conservazione della flora di geobotanica geobotanica applicata quindi un testo che va per gli studenti che va per i appassionati di montagna e di ambienti naturali non entro nello specifico dei contenuti perché lascio la parola agli autori però veramente il titolo risponde pienamente a quelli che sono i contenuti piante, vegetazione, ecosistemi e quello che forse manca qui nel titolo è proprio la storia del paesaggio del parco d'Abruzzo Lazio e Molise la storia del parco e la storia progressa, passata parliamo anche di tempi di tempi molto antichi che ha prodotto questo paesaggio che oggi noi possiamo vedere e che ci permette anche di per coloro che sono addetti a occuparsi anche della gestione, della conservazione di questi paesaggi permette di comprendere ancora di più quello che è la realtà attuale di questo territorio quindi io ringrazio gli autori e ringrazio i presenti e ho fatto una brevissima presentazione ma veramente col cuore e con grande stima per gli autori presenti e non presenti grazie allora buonasera a tutti io ringrazio per questo compito diciamo per questa presentazione di questo libro che più che una guida per me è veramente un trattato quasi un'enciclopedia diciamo per quanto poi possa essere complesso e concordo appieno con quello che ha detto la professoressa Scoppola e l'importanza anche del glossario alla fine di questo di questo libro di questa guida chiamiamolo così perché in tempi di Wikipedia diciamo in tempi di internet sapere pure conoscere le fonti penso che sia fondamentale quindi questo è presente anche nel libro è una cosa interessantissima raffinatissima che rispecchia poi il tipo di scrittura del libro è il rigore diciamo con il quale il libro è scritto è scritto veramente con passione quindi diciamo questa passione viene da lontano che cosa c'è dietro diciamo questo amore per il Parco Nazionale di Abruzzo vorrei chiedere grazie io ringrazio chi mi ha preceduto per le bellissime parole ringrazio il collega Leonardo Rosati che purtroppo non è qui presente anche perché lavora all'Università Basilicata quindi un po' fuori mano e che con grandissima generosità si è speso in questa avventura insieme a noi anche perché va ricordato che purtroppo per chi come noi è docente in settori scientifici di area biologica i libri è una cosa noi facciamo veramente per hobby nel senso che non ci sono valutati come prodotti della ricerca scientifica quindi è un investimento di tempo e di energia diciamo che facciamo per amore che sostanzialmente non ci viene riconosciuto nella valutazione della nostra attività che viene vada solo attraverso gli articoli in inglese su riviste internazionali e il desiderio di scrivere questo libro è nato appunto da un lato a un certo punto appunto anche dalla stanchezza di essere irregimentati in questo sistema estremamente quasi matematico di essere pesati col bilancino su quello che scriviamo soltanto su certe riviste dove bisogna scrivere per forza in inglese dove ci sta pochissimo spazio a disposizione dove devi scrivere usando sempre le stesse frasi che la rivista si aspetta e quindi non c'è nessuno spazio diciamo anche per il gusto di utilizzare la lingua italiana e di spiegarsi in modo divulgativo l'idea del libro è nata per caso perché è dal 2013 che il nostro gruppo di ricerca lavora nel Parco Nazionale d'Abruzzo con sostanzialmente per incarichi da parte dell'ente parco e un paio di anni fa parlando con la responsabile dell'ufficio scientifico del parco che mi stava raccontando le iniziative per il centenario del parco nazionale che è uno dei più antichi d'Italia e d'Europa che quest'anno compie appunto cent'anni dall'istituzione mi stava parlando dei vari libri che stavano preparando e io appunto che era da tempo che sognavo di scrivere un bel libro lungo di poter scrivere con calma tutte le cose che non si possono scrivere negli articoli scientifici e gli ho detto quasi per caso potremmo fare un libro sul paesaggio vegetale e le fa ah sì che bello e quindi da lì senza io nemmeno mi rendessi conto dove ci avrebbe portato questo lavoro è partita questa idea che ci ha impegnato per due anni in cui abbiamo fatto praticamente quasi solo questo in tre persone e io poi ho un legame diciamo affettivo col barco nazionale perché la mia carriera di naturalista è cominciata quando avevo un mese di età perché mio padre aveva in corso un progetto di ricerca sui lupi del recinto di città e quindi a un mese di età fui portato lì al seguito di mio papà inseguito dalla profezia di mia nonna che disse che ero troppo piccolo per sovvivere a quell'altitudine e che quindi sarei sicuramente morto in culla e poi pare che l'anno dopo quando avevo un anno e pochi mesi piangevo per entrare con papà nel recinto dei lupi quindi insomma la mia è stata una carriera di naturalista molto molto precoce però in realtà nel parco del pulso ci andavo praticamente solo in vacanza anche quando ero già diciamo botanico con i baffi e la barba fino al quindi non avevo mai messo non avevo mai messo a fuoco come un posto di coccorri della forma perché avevo fatto la tesi di lavoro e la tesi di dottorato su ambienti mediterranei quindi era un posto che per me era un posto dove andavo a rilassarmi non le volevo nemmeno guardare le piante perché sennò diventava lavoro poi nel 2013 venni coinvolto dal professor Piovesan in un progetto di ricerca che il parco di Abruzzo aveva conferito all'università della Tuscia e poi dopo da lì sono partiti altri progetti che il lente parco ha conferito diciamo direttamente a me quindi sono ormai dieci anni che lavoriamo con il prezioso aiuto della collega Laura Cancellieri e lavoriamo in modo molto intensivo nel parco quindi questo libro è anche una sintesi di dieci anni di ricerca in cui abbiamo esplato tra l'altro all'inizio col preziosissimo supporto della stessa scoppola che mi ha dato nel 2013 sbarcammo al parco in un maggio piovosissimo era come quest'anno ma faceva molto più freddo quindi era il 2013 diluviava non si riusciva a fare niente faceva un freddo cane le strade erano completamente le strade sterrate erano tutte sommerse dal fango nemmeno fuoristrada si passava quindi ci trovavamo ci guardavamo sconsolati sotto la pioggia io avevo questa scoppola e Laura e un avvio insomma piuttosto piuttosto erigoso è da l'attanzi è una vostra collaboratrice che ora ha 93 anni all'epoca un po' più giovane all'epoca c'era 83 e veniva in campo con noi tranquillamente tranquillamente in mezzo alle spie ok di cosa parla il libro allora l'idea era quella di proprio di una di una guida di campo cioè così come esistono la guida di campo al riconoscimento dei fiori la guida al riconoscimento degli uccelli eccetera l'idea era una guida al riconoscimento di cosa dell'intera comunità vegetale degli ecosistemi è una cosa che in Italia è strana è inusuale ma nei paesi civili come li chiamo io cioè dal diciamo dall'altro lato delle Alpi in su in realtà esiste non solo esiste un'enorme tradizione di guida di campo come quelle che conosciamo noi cioè le guida al riconoscimento dei fiori degli uccelli eccetera ma esiste anche una cospicua tradizione di guida di campo al riconoscimento delle intere comunità vegetali di cui un paio sono uscite anche in traduzione italiana con relativamente poco successo purtroppo anche se io le uso le usate come libri di testo in alcuni dei miei corsi e altre invece esistono solo in inglese o in tedesco quella che vedete lì a destra è un esempio di una serie bellissima che viene pubblicata da una casa editrice britannica che si chiama Blansbury Wild Life che è arrivata a pubblicare una decina di volumi ognuno dei quali è una guida a una particolare categoria di ecosistemi quindi c'è quella sulle praterie c'è quella sui ambienti fluviali quella sulle coste quella sui boschi e così via e sono libri bellissimi ai quali noi ci siamo spudolatamente ispirati nello stile nei modi un po' anche nella grafica chiaramente restando nei limiti dell'evitare ovviamente il plagio però abbiamo fatto vedere al grafico questi puni abbiamo detto ma noi vorremmo fare una cosa del genere e perché a me piaceva moltissimo questo stile britannico tipicamente britannico di essere contemporaneamente dettagliati scientificamente ma leggibili da tutti cioè senza diciamo autocompiacimenti paroloni eccetera quindi cercare di riuscire a trattare argomenti che sono anche molto specialistici ma in un modo che sia veramente comprensibile comprensibile a chiunque sia appassionato che sono le comunità vegetali cioè l'oggetto di questa guida sono i vari modi in cui le piante si associano a formare diciamo così semplificando degli ecosistemi quindi per esempio in una foto come questa che viene proprio dal centro del Parco Nazio di Abruzzo della zona che sarà proprio nel centro geografico possiamo riconoscere in alto un bosco di faggio che è quello che si vede più scuro che sta nella parte alta della montagna poi al centro la vegetazione di colori più chiari è un cespuglieto quindi una comunità formata da specie arbustive come i biancospini le rose selvatiche i prugnoi eccetera e poi in basso una prateria cioè un ecosistema formato invece da piante erbace prevalentemente da graminace queste sono tre comunità vegetali diverse quindi questo libro è innanzitutto una guida che dice come sono fatte come si riconoscono e cosa hanno da raccontarci cosa fanno nella vita queste comunità poi in realtà le cose sono un pochino più complicate e quindi più interessanti di così perché qui è facile vedere che ci sono tre comunità vegetali o se volete tre ecosistemi se consideriamo anche la componente faunistica perché queste comunità vegetali qui hanno tre strutture diverse c'è proprio la loro architettura la loro statura è completamente diversa il bosco è fatto di piante che sono alte 20-30 metri il cespugliero è di piante che sono alte 5-6 metri il prato è di piante che sono alte pochi centimetri in realtà può anche succedere una situazione anzi succede spessissimo una situazione come questa in cui abbiamo una superficie che è tutta coperta da prato ma se guardiamo bene ci accorgiamo che pur essendo sempre un prato quello che cresce sui tossetti più sassosi è fatto di un assemblaggio di una composizione di specie completamente diversa dal prato che cresce invece negli avvallamenti cioè bastano pochissimi metri di slivello per dar luogo però a delle variazioni delle caratteristiche del suolo che a loro volta si portano una composizione specie quindi una consociazione di specie di piante completamente diversa quindi sono due prati tutti e due ma sono due comunità vegetali completamente diversi che hanno fatti di piante completamente diversi quindi che hanno una biodiversità che fra di loro è complementare e differente e che di conseguenza poi anche gli invertebrati che queste piante si portano appresso saranno in parte diversi e ci raccontano storie diverse quindi se noi riusciamo a riconoscere che sono due comunità vegetali diverse dalla loro presenza possiamo dedurre che il suolo qui in primo piano è profondo 5-10 cm che ha un pH superiore al 7 e ha una tessitura cioè una composizione di granuli grossolani una tessitura sabbiosa come si dice in termini tecnici mentre il suolo che sta nella valletta è profondo 50-70 cm è fatto presentamente di argilla c'ha un pH intorno al 5 cioè se noi riusciamo a riconoscere le piante e di conseguenza diverse comunità vegetali questo si porta presso una quantità di informazioni enormi sull'intero sull'intero sistema naturale poi così come ogni comunità vegetale è un assemblaggio di specie di piante a sua volta il paesaggio è un assemblaggio di ecosistemi di comunità vegetali diverse quindi se noi riusciamo a diciamo a parlare la lingua delle piante vedendo un paesaggio come questo che è sempre dentro il parco del Bruzzo riusciamo a capire tantissime storie perché riusciamo a capire per esempio che il confine inferiore del bosco che c'è sul versante corrisponde al contatto geologico fra i calcari e le argille dove ci sono le argille storicamente era più reddizio coltivarci che non lasciarci il bosco rendeva di più il grano che non il faggio e quindi quelle sono state disboscate e coltivate poi però che è successo che a un certo punto siccome parliamo di un posto che sta a 1200 metri in montagna e quindi non è che il grano venga prodotto benissimo a un certo punto questi campi sono stati abbandonati sono stati utilizzati senza troppo convinzione come pascoli e quindi la natura ha cominciato a riprendersi questo territorio formando questo cespuglieto di arbusti molto scuri che sono ginepri comuni che sono molto competitivi sui terreni argillosi appena però si incontra salendo sul versante il substrato calcario e beh lì coltivare era un po' complicato era molto più redditizio economicamente lasciarci il bosco e sfruttare quello e quindi lì vediamo il bosco di faggio che è questo colorato in rosso che la foto è fatta in autunno però all'interno di questa zona calcario questo versante calcario c'erano degli affioramenti di argilla che davano luogo a delle frane e che cioè che si era provato a coltivare ma che essendo in elevata pendenza davano luogo a delle frane e quindi poi negli anni 50 sono stati in qualche modo fatti come le otturazioni di un dente con dei rimboschimenti a pino nero una pianta in realtà estranea al paesaggio che infatti appare in modo molto netto con questo verde scuro all'interno della faggetta poi ci sono delle piccole radure sul versante e a seconda della quota quelle che stanno a mezza quota siccome sono delle rocce esposte a sud che è un ambiente molto stressante per il faggio sono state queste erano utilizzate dai pastori per le pecore e poi la pastorizia a queste volte è stata abbandonata perché non rendeva più e allora questo è un ambiente molto stressante per il faggio perché sono rocce calcare esposte a sud è stata colonizzata da un albero che è molto più spartano del faggio che è il carpino nero che infatti questa foto si riconosce perché in autunno ha le foglie di un colore un po' diverso rispetto al faggio questa radura che è una quota ancora più alta invece viene colonizzata da un arbusto che è il ginepronano che sono quelle pallette verdi appiattive perché lì c'è un carico di neve pesantissimo e quindi solo questo arbusto molto appiattito riesce a viverci e poi ancora più su sulla cima della montagna gli alberi finiscono non perché i pastori li hanno tagliati ma perché lì siamo intorno a 1800-1900 metri dove la temperatura anche durante l'estate è troppo bassa per consentire la crescita dei tessuti vegetali e allora ci crescono soltanto piante molto appiattite che essendo appiattite del suolo godono di un microclima dovuto al calore rirraggiato del suolo che in realtà è più alto di quello di cui è più caldo di quello di cui usufruiscono gli alberi e quindi possono viverci lo stesso se sappiamo parlare il linguaggio delle piante possiamo evitare un sacco di guai questa qui è un'area picnic che è stata incautamente costruita all'interno di un boschetto di un particolare albero che si chiama salice ripagliolo che è una delle decine di specie di alberi scusate una delle decine di specie di salici che ci sono in Italia ma il salice ripagliolo fra tutte le specie di salice ha la particolarità che diventa dominante soltanto laddove ci sono dei torrenti che hanno in termini tecnici si dice un frequente trasporto solido cioè fanno delle piene ricorrenti che trasportano materiale pietroso molto grossolano trasportano ciottoli questo perché questo movimento di ciottoli elimina tutte le altre specie di salici che invece hanno bisogno per esempio di suoli fatti di limo cioè di particelle molto fini quindi quando noi vediamo un bosco fatto tutto di salici ripagliolo vuol dire che lì periodicamente ogni pochi anni c'è una piena che trasporta valanghe di sassi quindi è un posto da cui tenersi lontano e infatti i taurini a picnic come vedete sono sommersi dai ciottoli se avrebbe stato chiedere a un botanico gli avrebbe detto che bastava spostarsi di pochi metri perché bastava andare dove il terreno è sollevato di 50 centimetri lì invece ci cresce il carpino nero che ci dice no quella qui puoi stare tranquillo perché qui il trasporto solido cioè la ghiaia non arriva va bene detto questo come è fatto il libro è fatto di di tre parti principali una che racconta quali sono i motori del dell'eterogenità del paesaggio una che è la parte poi più corposa invece è la seconda che è proprio diciamo la guida ai diversi tipi di comunità vegetali e la terza che sono delle escursioni botaniche allora nella parte che tratta del dei fattori del paesaggio ci sono ovviamente dei fattori tipo macroscopico che funziona la scala geografica come le diverse precipitazioni ci sono zone più aride zone più piovose anche restando in ambienti di diciamo anche restando anche passandosi pochi chilometri e poi ci sono dei meccanismi che agiscono a scala di estremo dettaglio ma che per le piante sono anche ancora più importanti cioè per esempio in uno stagno come questo basta che l'acqua sia più profonda di pochissimi centimetri per avere un netto confine fra una comunità fatta di piante acquatiche appartenenti a certe specie e una comunità fatta di piante appartenenti ad altre specie un fattore ambientale a cui spesso non si pensa è il disturbo il disturbo è qualunque fenomeno che distrugge vegetazione allora il disturbo noi immaginiamo che sia necessariamente una cosa adulta in realtà il disturbo è una componente della natura è una componente degli ecosistemi queste strisce che vedete sono canali di valanga cioè zone nelle quali le valanghe scorrono più più frequentemente più probabilmente e quindi mantengono delle fasce naturalmente prive di faggeta prive di bosco in cui crescono delle comunità vegetali diverse e il disturbo poi si incrocia con i diversi substrati geologici moltiplicando la complessità del paesaggio per esempio in questa immagine che sta sempre nel libro viene sempre dal parco tutto il versante nel primo piano nel fondo valle è fatto di argille mentre il versante sullo sfondo è fatto di roccia calcarea quindi tanto per cominciare noi ci aspettiamo di avere comunità vegetali diverse qua davanti perché c'è l'argilla e là in fondo perché c'è il calcare però su ognuno di questi due versanti c'è una parte che storicamente è stata lasciata a bosco e una parte invece che storicamente è stata coltivata oppure pascolata quindi nella parte argillosa io anziché avere una sola comunità vegetale in questo caso sarebbe il bosco di cerro che è l'albero che diventa dominante sull'argilla c'ho il bosco di cerro e poi dove anticamente era coltivato c'ho la prateria che è dominata da una particolare graminacea che si chiama brachipodium rupestre che è una graminacea che diventa dominante quando c'è l'argilla dove c'è il calcare dove è stato sempre lasciato il bosco il bosco è comunque diverso da quello che c'è in primo piano perché sul calcare il cerro poveretto non campa bene quindi l'albero dominante è un'altra quercia che si chiama roverella ma dove la roverella è stata tagliata per far posto ai pascoli la prateria che cresce essendo il substrato calcareo è completamente diversa da quella che cresce sull'argilla è dominata da una graminacea che si chiama bromusterectus e quindi abbiamo due comunità vegetali diverse tra l'altro con una biodiversità diversissima qua dove sul calcare in un metro quadro si trovano fino a quaranta specie di piante diverse in un quadrato campino di un metro per un metro dove c'è il brachipotium le specie sono soltanto quindici venti quindi è molto diversa non solo quali specie ci sono ma anche quante ce ne sono a riguardo professore vorrei fare una domanda dunque leggendo il libro non da botanica quindi non da esperta ho capito che praticamente le piante ci stanno insegnando qualcosa sull'ambiente a secondo del tipo di pianta c'è un ambiente particolare una storia anche dell'ambiente una storia umana perché relativamente alle foreste noi abbiamo una normativa diciamo sulla conservazione delle foreste e relativamente alla prateria di cui sta parlando adesso non c'è o alla palude non c'è questa normativa allora qui c'è c'è un problema che che è stato recentemente diciamo studiato da autori di vari paesi anche di varie estrazioni cioè su interdisciplinari fra fra i sociologi gli storici dell'ambiente e invece gli ecologi botanici che è questa visione un po' albero centrica della della natura nel senso che noi siamo portati a pensare che tutto ciò che è bosco e che è albero è buono e tutto ciò che non è bosco tutto ciò che distrugge gli alberi è necessariamente cattivo in realtà la natura non è fatta solo di alberi e non è fatta solo di foreste la natura se non ci fossimo noi sarebbe un mosaico anche in Europa di foreste di savane che ci sarebbero anche in Europa e di praterie e poi gli altri ambienti come le paludi le zone umide eccetera il problema è che con le foreste ci si facevano le navi da guerra con tutti gli altri ambienti no e quindi dai tempi della Repubblica di Venezia e quindi poi il codice di Napoleone eccetera eccetera le foreste sono sempre state considerate in qualche modo sacre dal punto di vista legale ma perché dietro c'erano questi studi molto interessati che hanno ricostruito dal punto di vista storico che dietro c'erano interessi innanzitutto di ordini militare e più in generale economico e poi c'è anche un altro motivo molto più sottile che gran parte della normativa forestale diciamo attuale che c'è oggi in Europa deriva da concezioni per ragioni storiche legate a voi all'impero napoleonico eccetera da concezioni che derivano dalla scienza forestale francese o tedesca il problema è che in Francia in Europa centrale c'è un tipo di clima che è un clima a pioggia estive cioè in cui la stagione più piovosa dell'anno è l'estate quindi è un clima che avete ragione adesso qui sarebbe complesso a spiegare favorisce molto gli alberi rispetto ad altri ecosistemi come le praterie e fa sì che gli incendi naturali siano relativamente rari e quindi fa sì che gli alberi abbiano pochi adattamenti contro l'incendio e quindi fa sì che l'incendio in molti casi sia effettivamente molto dannoso per la foresta ma gran parte dell'Italia per non parlare del resto del Mediterraneo sta nel clima mediterraneo che invece è un clima che funziona al contrario in cui l'estate è la stagione meno piovosa dell'anno quindi in cui in condizioni naturali gli incendi naturali creati dai fulmini sarebbero molto frequenti e in cui quindi gli alberi e gli interi ecosistemi hanno degli adattamenti naturali per l'incendio e quindi l'incendio non è questa cosa così catastrofica come noi possiamo pensare anzi ci sono degli ecosistemi al Mediterraneo che hanno bisogno dell'incendio per mantenere la biodiversità per riprodursi per svolgere le loro funzioni il problema è che quando i francesi e a maggior ragione i britannici hanno cominciato a fare i protettorati e le colonie in tutto il Nord Africa Cipro la Grecia eccetera arrivavano e dicevano ma qui è una tragedia perché questi chiaramente è arrivati a un clima dove piove tutti i giorni tutta l'estate e quindi c'è una vegetazione che funziona con certi meccanismi quando nell'ottocento inizio novecento questi sono arrivati in Nord Africa non hanno capito come funzionavano i sistemi ecologici mediterranei e pensavano di applicare i loro criteri anche lì facendo tra l'altro creando dei grossi problemi anche di natura sociale perché invece gli agricoltori soprattutto i pastori nomadi del Mediterraneo avevano quelli dell'Appellino avevano dei sistemi che da millenni erano basati sulla stagionalità proprio della stagione arida il succo della storia però è quello che poi diciamo gli argomenti su cui poi passo molto tempo nel corso di conservazione del paesaggio vegetale al secondo anno della magistrale è che la normativa italiana tutela tantissimo le superfici forestali cioè la legge italiana stabilisce che dovunque c'è il bosco c'è di fatto l'inedificabilità assoluta per il solo fatto che c'è il bosco e quindi può essere un bosco che fa schifo che il cui valore ecologico è zero ma per il solo fatto di essere il bosco c'ha una tutela praticamente assoluta mentre invece le raterie e a volte paradossalmente possono essere molto più naturali e molto più antiche storicamente del bosco non hanno una tutela diciamo generalizzata nell'ordinamento italiano e soltanto da pochi anni grazie a una norma europea che si chiama direttiva habitat ricevono una certa forma di tutela ma che diciamo non è così rigorosa io passerei ad accennare a cosa c'è nella seconda parte del libro quella più sostanziale allora ovviamente parliamo moltissimo di boschi che sono da parte del libro perché il parco Abruzzo ha immense superfici forestali ed è giustamente famoso per le sue foreste e quindi descriviamo appunto cerchiamo di far capire come i vari boschi sono diversi non solo guardando qual è il loro guscio esterno cioè qual è l'albero che li domina ma in base all'intera composizione specie del loro sottobosco che è diversissima da un ambiente all'altro e dove le piante erbacee del sottobosco svolgono i ruoli ecologici molto importanti per esempio nei meccanismi del suono ma proprio perché in realtà gli addetti ai lavori lo sanno ma il grande pubblico no c'è un'importanza ecologica enorme degli ambienti non forestali per esempio delle praterie specialmente in Appennino abbiamo dedicato molto spazio e molta cura agli ambienti non forestali quindi abbiamo descritto con attenzione i vari tipi di prateria che è un qualcosa che normalmente il visitatore non guarda è solo un posto dove fa caldo dove c'è il sole da cui scappare per rifugiarsi all'ombra degli alberi ma abbiamo cercato di far capire che i vari tipi di prateria sono altrettanto diversi quanto i vari tipi di bosco cioè tra i vari tipi di prateria c'è tanta differenza quanta c'è fra un bosco di faggi e un bosco di querce in una prateria in una prateria si intreccia una quantità di specie incredibile in pochissimi metri quadrati e questa diversità di specie di piante si porta presso una diversità enorme di fauna partendo ovviamente dagli invertebrati e dagli insetti che spesso sono specializzati per la nutrizione specialmente allo stato di larva su una particolare specie di pianta e poi questo a catena si porta presso ovviamente gli uccelli che questi insetti si mangiano e così via ed è una diversità che esiste solo nelle praterie cioè gli insetti ci sono insetti e uccelli che possono vivere solo in prateria e che in foresta non vivono e quindi se noi eliminassimo tutte le praterie a favore delle foreste avremmo un danno per la biodiversità enorme noi diciamo ma dove stavano sti animali e queste piante prima che l'uomo tagliasse le foreste per metterci le pecole beh intanto stavano nelle praterie di alta montagna dove gli alberi non ci possono andare per cause naturali ma anche a bassa quota in realtà nella preistoria in Italia e in Europa c'erano immense mandri di giganteschi erbivori selvatici come l'elefante europeo come il cavallo selvatico l'asino selvatico il bisonte europeo il bue selvatico eccetera che sono stati estinti dall'uomo alla fine dell'ultima glaciazione circa 15.000 anni fa ma man mano che l'uomo estingueva questi grandi erbivori selvatici che avevano il ruolo ecologico di mantenere delle gigantesche radure o delle savane all'interno delle foreste e quindi di far vivere le praterie man mano che l'uomo estingueva questi erbivori selvatici che erano dei bulldozer che mantenero aperte le praterie l'uomo man mano inventava la pastorizia e quindi gli erbivori domestici hanno preso il ruolo ecologico che avevano gli erbivori selvatici e hanno continuato loro a mantenere aperte le praterie le praterie parco sono eccezionali pochi anni fa grazie all'occhio della dottoressa cancellieri e alla sua perseveranza come diceva ma lascia perdere abbiamo scoperto che il parco di Abruzzo è l'unica località dell'Appennino in cui cresce una graminacea che se non è una graminacea sembra uguale a qualunque filo d'erba esistente che è la pianta dominante delle steppe della Mongolia e in Italia questa pianta si conosceva soltanto per alcune valli aride delle Alpi allora il momento in cui abbiamo scoperto che nell'Appennino centrale c'è questa pianta che si chiama Festuca Vallesiaca e che quindi questi prati dalle dominati che possono sembrare delle sterpaglie o comunque altro in realtà cosa sono? Sono un museo vivente sono la fossilizzazione della steppa che c'era durante l'epoca glaciale quando anche da noi c'era una vegetazione come quella della Mongolia e si è conservata in Appennino centrale grazie ad alcuni ambienti con un clima un po' meno piovoso con dei substrati geologici particolari con forte erosione in cui gli alberi non riuscivano a insediarsi eccetera e con una tradizione di pastorizia preistorica documentata dagli archeologi antichissima tutti i fattori che hanno concorso infatti oltre alla Festuca Vallesiaca ci stanno un sacco di altre specie in comune con le steppe eh asiatiche il problema è che per la legge italiana questa è questo è un terreno agricolo cioè se uno ci può costruire un capannone per metterci le mucche lo può fare nonostante che questo sia come se noi avessimo scoperto che in Italia ci stanno ancora i mammut quindi costruire un capannone qua sarebbe come sparare ai mammut ma la legge consente di farlo mentre se uno può costruire una casetta giocattolo dentro un bosco oppure se è un bosco che fa schifo non lo può fare quando io ero studente mi raccontava probabilmente mi ha raccontato ancora la maggior parte degli studenti tranne che i miei che questa roba fatta così è un bosco degradato ossia queste situazioni sono frequentissime in Appennino in cui ci sono alberi radi intervallati da zone di arbusti dei paederia e mi ha detto beh questi sono poschi degradati cioè questo era un bosco poi per colpa dell'uomo l'incendio della pastorizia è una cosa degradata in realtà c'è un tutto ricente filone di ricerca affascinante che dice guardate queste sono savane europee questi sono ambienti che fino a 12.000 anni fa e per milioni di anni hanno dominato l'Europa perché gli incendi naturali e i grandi erbiori selvatici mantenevano spesso la vegetazione in questo stadio e infatti questo è un stadio ricchissimo di vita ci sono tantissime specie di uccelli a rischio di estinzione che vivono solo in questi ambienti in questi ambienti sapanoidi ora questi ambienti sapanoidi sono mantenuti dalla storizia dal pascolo domestico se noi abbandoniamo la pastorizia sta roba spesso si richiude e diventa una boscaglia chiusa dove spariscono gli uccelli spariscono gli insetti spariscono le piante che sono legate a questi ambienti fatti in questo modo che nel parco al brucio sono ancora abbastanza diffusi e questo è un articolo recentissimo che è uscito tre settimane fa su una lista molto importante che fa vedere come la maggior parte degli alberi decidui europei hanno una struttura degli adattamenti ecologici che ci raccontano che si sono evoluti in un ambiente di savana e non in un ambiente di foresta e che quindi avrebbero il loro optimum anche dal punto di vista della riproduzione in ambienti fatti a mosaico e non in foresta chiusa come questo per esempio il parco di Abruzzo e quindi però che è successo che siccome però noi esseri umani occidentali abbiamo questa visione albero centrica che dice che tutto ciò che è bosco è bene tutto ciò che non è bosco è male abbiamo cercato di riempire tutti i buchi a maggior ragione nei parchi nazionali quindi negli anni 50-60 lo stato italiano ha detto no ma qui questo è un parco nazionale pieno di queste zone degradate senza alberi rimboschimento a conifere questo è uno dei tantissimi imboschimenti nel parco di Abruzzo la biodiversità qua dentro è bassissima anche perché le conifere trasformano il suolo dal punto di vista fisico e quindi i imboschimenti nelle aree protette in realtà sono un grosso problema perché andrebbero rinaturalizzati cioè bisognerebbe con la dovuta tecnica ma sostanzialmente eliminarli e far ritornare degli ambienti aperti ma vi lascio immaginare i problemi di natura politica e sociale che sorgono appena cominci a tagliare un albero su Facebook e compagnia bella si scatena l'ira di Dio dalla gente che dice perché si stanno tagliando i pini nel parco nazionale una domanda a riguardo mi viene in mente dunque lei parlava di proteggere la biodiversità le zone umide in Italia nel libro ho letto che negli ultimi 50 anni sono state eliminate quindi lei che ne pensa del ripristino diciamo delle zone paludose potrebbe essere utile per la tutela della biodiversità sì in realtà sarebbe una delle cose migliori che potremmo fare anziché questa follia di piantare miliardi di alberi con i fondi europei eccetera rischia di essere un danno nella migliore delle ipotesi un'operazione inutilmente costosa e nella peggiore un danno per la biodiversità in moltissimi ambienti tranne quando si piantano alberi in città in zone industriali degradate eccetera il problema è che il PNRR prevede di piantarsi alberi anche in zone extraurbane dove i rischi sono enormi viceversa a noi non ci mancano le foreste in Italia abbiamo per fortuna grandi superfici di bosco ma noi in Italia abbiamo distrutto più del 90% delle superfici di ambienti palustri zone umiche quindi è lì che bisognerebbe spendere per fare il vero restauro ambientale che serve alla biodiversità che serve alla sicurezza idrogeologica che serve al cibo e all'acqua serve all'assorbimento del carbonio perché le paludi accumulano torba quindi producono combustibili fossili quindi fanno l'opposto di quello che facciamo noi quando è l'unico ecosistema che fa l'opposto di quello che facciamo noi quando bruciamo benzina e il problema è che se il politico dice ho piantato 10.000 alberi tutti gli dicono bravissimo se il politico dice ho allagato mille ettari di paludi lo prendono per matto perché a scuola noi abbiamo studiato sui libri che i grandi statisti cosa hanno fatto hanno fatto le bonifiche hanno prosciugato le paludi che erano malsane e hanno fatto i rimboschimenti sull'appennino che era brullo e dissuadato e quindi il buon governo è quello è piantare gli alberi e prosciugare le paludi nelle condizioni in cui siamo adesso in Italia il buon governo è smetterla di piantare alberi e chi non si dice che dobbiamo chiaramente fare i neroni e do fuoco le foreste ovviamente dobbiamo proteggere anche le foreste ma il problema è che quello che è raro è rispettare non solo le foreste ma solo le paludi e quindi bisognerebbe rinaturalizzare alcune zone per cui nel libro abbiamo anche speso parecchio tempo ha un argomento che proprio perché diciamo beh il turista ci va per vedere le montagne i camusci gli orsi e non si aspetta che il parco di Abruzzo sia anche un posto in realtà in cui si sono conservate delle zone umide e acquatiche estremamente interessanti una è interessantissima nonostante che sia un ambiente completamente artificiale il lago di Barrea che è un lago idroelettrico in genere nei lago idroelettrici non c'è niente perché? perché i lago idroelettrici per ragioni tecniche hanno delle oscillazioni di livello dell'acqua frequentissime che desertificano completamente il fondale e le rive perché ogni specie di pianta acquatica ha un micro habitat che è legato a una particolare profondità dell'acqua se tu gli cambi la profondità di 5 metri in un mese chiaramente non ci può vivere nulla con nostra enorme sorpresa nella WebR invece esiste un ecosistema piuttosto complesso di tante comunità vegetali diverse a seconda della profondità dell'acqua quasi come avviene nei laghi naturali probabilmente a causa del fatto che tanto per ragioni tecniche quella è una tica che funziona in un modo un po' particolare quindi l'Enel fa degli a bassa livello solo una volta all'anno e soltanto alla fine dell'estate quando ormai le piante acquatiche si sono riprodotte l'altro motivo è che da qualche anno c'è un protocollo di intesa fra il Parco Nazionale e l'Enel per contenere anche questo sbalzo contenerlo in una forchetta relativamente piccola ma il bello è che il Parco non sapeva delle viante perché nessuno se n'era accorto e potete manco c'era ovviamente il protocollo il Parco aveva fatto questo protocollo per gli uccelli acquatici e poi noi ci siamo accorti per caso che questa cosa ha avuto un effetto straordinario sulla biodiversità vegetale probabilmente l'unico lago idroelettrico d'Italia ad avere la sequenza completa delle varie comunità sommerse e quindi ovviamente il Parco è molto contento di sapere che quindi questo questo accordo con l'Enel funziona l'ambiente però ancora più importante sono le torbiere che sono le torbiere sono le paludi di ambiente freddo le paludi di montagna che sono importantissime intanto perché appunto producono la torba quindi sottraggono CO2 in modo veramente permanente perché sì le piante le piante vive come gli alberi sottraggono CO2 perché le entrappolano tessuti però quando poi la pianta muore e si decompone la CO2 ritorna in atmosfera invece la torbiere è un ambiente in cui le piante non si decompongono si mummificano diventano torba cioè diventano un materiale fossile diciamo un materiale che non si decompone che mantiene permanentemente il carbonio al suo interno questo a causa del clima freddo che di una serie di combinazioni fra clima regime di acqua eccetera che impediscono la decomposizione solo che le torbiere sono molto frequenti sulle Alpi ma diventano via via più rare lungo l'Appennino perché più si scende verso il clima mediterraneo e più l'aridità tipica del Mediterraneo tende invece a far decomporre la torba quindi questi esempi che ci sono nel Parco d'Abruzzo sono molto preziosi però alcuni di essi storicamente sono stati prosciugati questa è vista dall'alto una conca qui vedete tutte queste linee arancioni queste sono delle grosse piante acquatiche che sono così allineate perché parecchi decenni fa furono fatti dei canali di bonifica per cercare di prosciugare questa conca e utilizzarla come coltivazione quindi le piante acquatiche volete sono rimaste soltanto allineate a pettine lungo i canali di bonifica quindi persino nei parchi nazionali anticamente è successo che le zone umide sono andate sono andate distrutte dobbiamo anche pensare però che cent'anni fa nel parco è stato destituito chiaramente c'erano idee completamente diverse da adesso pensate che i guardia parco del parco avevano il compito di sparare lupi dentro il parco perché si teneva che il lupo fosse nocivo per gli altri animali che interessavano al parco come il camuscio l'orso eccetera quindi diciamo che non possiamo pesare col metro di adesso la gestione del parco di un secolo fa bene poi ci sono dieci escursioni botaniche che cercano di di far vedere cose cui normalmente il visitatore non guarda per esempio questa è un'escursione molto famosa che tutti fanno un sentiero famosissimo ne abbiamo cercato di far vedere lungo questo sentiero guarda che qui tu se guardi bene ti puoi accorgere che ci sono due tipi di prateria che si inseguono che si danno il campo il cambio seguendo in modo precisissimo il confine fra l'argilla e il calcare cambiando completamente la flora che tu puoi vedere fra i due lati questa è un'altra escursione famosissima che fanno tutti che porta al rifugio dei forcarisoni perché è il posto dove si danno meglio il camuscio appenninico però è anche il posto più a sud d'Italia dove c'è il pinumugo che è una specie frequentissima sulle Alpi ma rarissima in appennino ed è un'escursione che sale attraverso mille metri di dislivello quindi ci fa vedere l'effetto del clima attraverso la quota come cambia completamente la vegetazione io passerei la parola a Laura Cancellieri per parlare invece delle schede che ci sono mi sono presa questo incarico visto che posso parlare anche di più della mia parte di quello che faccio nel gruppo quindi da pura florista ho un po' di spunti da suggerire beh le schede secondo me sono il compendio di utilità perché uno va in giro guarda le comunità ma se non conosce quello che ci sta dentro come fa a capire le differenze fra una cosa e l'altra e allora il libro riporta da cose più semplici a cose più complesse dei piccoli dettagli come riconoscere i carpini come riconoscere gli aceri ad esempio che sembra una cosa banale per forestale cioè vabbè ma che ci vuole a riconoscere i diversi carpini però magari per il turista comune questo non è banale e ancora di più se passando dai carpini arriviamo a parlare dei graminace pili d'erba tutti uguali come si fa a distinguerle e allora abbiamo provato a dare piccoli dettagli va in giro magari ti porti una lente guardi un po' meglio e vedi che magari tra un'infiorescenza e l'altra ci sono un po' di differenza allora che dice il libro e magari di infiorescenza a infiorescenza da forma a forma uno riesce pure a mettere un attimo l'occhio su specie diverse e capire che i prati non sono tutti uguali anzi eh ma mica ci siamo fermati qua eh per niente perché io un po' il pallino ce l'ho ma c'è anche qualche collega che ce n'ha altri e ci siamo spinti ben più oltre eh io il pallino dei muschi ce l'ho da un sacco di tempo poi con freddo fa dice scusa ma non sono componenti dell'ecosistema hai voglia se sono componenti dell'ecosistema e a volte tu giri per pesca steroli e vedi che i muretti sono tutti marroni e invece poi cade l'acqua oh magia sono tutti verdi cos'è che cambia dal marrone al verde un muschio un uno uno solo ma chi è perché sono tutti uguali pure quelli tutte piccole masse verdi che crescono o sui tronchi degli alberi o sui muretti sui muretti a secco o là mettere un po' di curiosità pure su questi organismi mica fa male anche perché anche loro hanno un altissimo ruolo ecologico ma mica sui soli c'è pure qualche a rotella giusto che adesso non funziona ok ci sono anche loro licheni grande mistero allora oltre a spiegare questa è stata una collega un nostro collega che ci ha aiutato in questa cosa oltre a spiegare cosa sono perché i licheni sono veramente una cosa un po' misteriosa e hanno un po' ha un po' provato a contestualizzarli nei diversi tipi di ambienti nelle varie situazioni e a scoprire che addirittura su un su un lastricato del paese c'è un mosaico di decine di specie di licheni incredibile e come vivono questi e allora una scheda apposta che spiega un pochino chi è questa componente questo taxon che che comunque partecipa anche lui e alcuni danno anche grandi indicazioni che la presenza di qualcuno di quello che dice che ad esempio la foresta non è una foresta banale ma è qualcosa di più di più interessante che ha un alto valore magari conservazionistico e poi le scade che raccontano raccontano a volte dei processi a volte invece danno un po' la spiegazione dei diciamo di come sono state fatte le cose questa in particolare dice c'è un quadrato nel bosco io spesso lo dico ai miei studenti ma che va a fare in campagna e io disegno quadrati nel bosco disegno quadrati nel prato sembra una pazza in realtà quel quadrato nel bosco nel prato è la delimitazione di un'area in cui poi noi dentro ci andiamo a fare un sacco di cose andiamo a vedere le singole specie che compongono la comunità andiamo a vedere quali sono i fattori ambientali che sono in quella situazione e poi si fa due più due piante più ambiente e un sacco di indicazioni le tiri fuori e questa è la base di tutto il libro perché se non avessimo fatto tutti i quadrati nel bosco e nel prato e nella torbiera ammetterei anche quello con tutta la componente muscinale che c'è dentro e tante di quelle informazioni non ci sarebbero allo stato attuale questo per il meno le schede sono strutturate così dentro il libro ce ne sono tantissime poi vabbè ci siamo un po' sbilanciati sui titoli perché i libri se non sono noiosi quindi qualche titolo è anche molto simpatico a proposito vorrei fare una domanda dunque nella parte degli itinerari ci sono dieci itinerari una cosa che mi ha colpito tanto avendo io una passione per i nomi sono i nomi di questi luoghi la Madonna della Lana la Madonna del Canneto il Passo del Diavolo il Sagrario di Colle Lungo quindi tutta questa simbologia diciamo religiosa questo rimando quasi alla religione ha qualcosa a che vedere con con il paesaggio con la storia diciamo del del luogo non credo sia una casualità sicuramente non è una casualità perché i nomi sempre i nomi determinano o meglio danno indicazione di quello che si fa in un posto quanti toponimi abbiamo Fagetum che magari c'era il Bosco di Faggio magari adesso c'è una praderia ma all'epoca c'era il Bosco di Faggio e Pescassero che è il centro del parco ma anche altri comuni del parco erano la meta di una di una transumanza quindi immaginate mandri immense che arrivano praticamente greggi immense che arrivano si spostano dalla Puglia e camminando e camminando arrivano in questo in questo posto montano poi immaginate che percorsi in quel a quell'epoca adesso ci spostiamo col camioncino montiamo le pecore ci spostiamo all'epoca no si andava a piedi e quindi questi toponimi secondo me sono anche legati a questi eventi alla storia di uso del territorio che non è banale cioè l'uomo c'è non è che non c'è luogo di pellegrinaggio magari esattamente vuoi aggiungere qualcosa sui toponimi beh forse vorrei aggiungere che il parco d'Abruzzo diciamo sta proprio sul crinale che è lo spartiacqua principale tra Trirreno e Adriatico e quindi era una i valichi che stanno nell'attuale parco d'Abruzzo erano anticamente delle vie di comunicazione molto importanti fra le due metà d'Italia diciamo e quindi chiaramente erano sotto la protezione delle divinità pagane prima e cristiane dopo tra l'altro c'è una storia interessata che mi viene adesso in mente pensando che il presidente del sistema bibliotecario è un docente di linguistica nella zona dove abbiamo trovato la festuca vallesiaca quindi questo relitto delle steppe è documentato dagli archeologi che c'è una pastorizia veramente antichissima antichissima ma è interessante perché leggevo che anche i toponimi rimandano a questa antichissima pastorizia dei popoli preromani per esempio c'è una montagna proprio dove abbiamo trovato la vessuta resica e altre piante di tipo steppico che si chiama Monte Parasano e leggevo poi il professore può confermare la teoria corretta che Parasano ha la stessa etimologia di presepe cioè di un qualche cosa che è recintato e che sta davanti a una zona in cui si tengono gli animali eccetera proprio a testimonianza di questo fatto che infatti guarda caso sul Monte Parasano è stato ritrovato un santuario preromano che sembra legato al fatto che era un crocevia della pastorizia della transumanza protostolica e quindi i legami tra i toponimi la lingua e la diciamo e la vegetazione degli ecosistemi sono innumerevoli ok come ultime cose vabbè non potevamo non farvelo vedere visto che era il salscoppola l'ha anche citato il glossario scrivere un libro di testo così è anche un po' complicato perché spesso e volentieri non si può fare a meno di usare alcuni termini e allora l'impegno è stato quello di spiegarli sempre allora qualche volta sono scritti in corsivo nel testo c'è una parolina in corsivo e poi qualche riga dopo c'è la spiegazione di quel termine altre volte invece c'è proprio una voce di glossario quindi nel glossario sono spiegate insomma tutte le parole che ci sono sembrate un po' difficili o comunque tecniche e non ultimo è un testo divulgativo ma non è che la base scientifica non ci sta ci sta e come ci sono riferimenti bibliografici perché molte parti sono discussioni sono ragionamenti fatti anche leggendo la letteratura quindi è giusto anche riportarle queste informazioni e quindi oltre a particolari note o dettagli magari che magari erano un po' troppo nel testo li abbiamo spostati nelle note ci sono tutti riferimenti bibliografici per riuscire anche a curiosare al di là del testo andare un po' a vedere anche la componente scientifica io con questo posso fare una domanda? sì collegandomi proprio a questo discorso della base scientifica è una curiosità di di tutti i dati e le informazioni che sono riportate nel testo qual è la quota di informazioni che sono già state pubblicate dal punto di vista scientifico e per là vi dici il testo ha poco valore perché le pubblicazioni scientifiche contano per le nostre per le nostre carriere ci sono tanti dati inediti o sono già stati pubblicati buona parte delle informazioni che avete riportato nel testo? c'è un sacco c'è un sacco di roba inedita infatti in nota in quei casi c'è scritto questo questo aspetto non è stato ancora oggetto di studi pubblicati sarà oggetto di prossime pubblicazioni da parte nostra eccetera perché alcuni ambienti come appunto i laghi le torbiere i torrenti eccetera nonostante che il parco di Abruzzo abbia cento anni quindi è stato studiato tantissimo alcuni ambienti non erano mai stati mai stati studiati altri come le praterie invece ci sono tantissime pubblicazioni scientifiche nostre quindi la parte divulgativa la trattazione divulgativa che c'è nel libro è la versione divulgativa di quello che abbiamo scritto negli articoli scientifici altri come sì e altri come boschi sono stati studiati da altri autori e quindi la trattazione che c'è nel libro è la versione divulgativa di quello che è stato scritto da altri in pubblicazioni scientifiche però ci sono anche un sacco di informazioni di prima mano infatti presenteremo questo libro anche dal congresso della società di scienza della vegetazione a luglio per dire ai colleghi sicuramente è un libro divulgativo però dentro c'è anche un sacco di cose che in realtà non sono scritte per il momento non sono scritte da nessun'altra parte e quanto riguarda la flora le informazioni sulla flora ci sono abbiamo avete citato la festucavalesiaca ci sono e so che i colleghi che si occupano della flora stanno continuando a pubblicare anche nuovi ritrovamenti eccetera ci sono altri ritrovamenti che ogni tanto troviamo qualcosa ogni tanto sì poi i ritrovamenti sono tutti casuali la festucavalesia che è raccolta così perché io raccolgo festughe sono una pazza furiosa ne avevo raccolta una che in passato si chiamava boh perché non riuscivo a capire che era vabbè a fortuna è arrivata una ragazza slovena che mi ha dato una dritta come si dice a Roma e alla fine è saltata fuori questa specie interessantissima certo le specie nuove vengono fuori se il territorio lo percorri se vai in giro e osservi ma non osservi lo sfondo osservi osservi veramente l'osservazione vera che vedi le differenze tra una foglia e l'altra e ogni tanto salta fuori qualcosa non escludo che salterà fuori pure qualche moschietto ma sì ma perché no bene io vorrei concludere qui e dare la parola ai presenti se ci sono delle domande però volevo sottolineare un elemento che forse tutti avrete notato la passione diciamo degli autori del libro oltre il rigore scientifico oltre proprio la chiarezza del linguaggio un linguaggio raffinato dettagliato rigoroso c'è proprio un'immensa passione che che si nota insomma che tutti avrete percepito e penso che la riuscita di un buon libro dipenda quasi del tutto dalla passione dell'autore perché poi il lettore se ne accorge leggendo il libro che cosa c'è dietro se è un libro scritto in maniera arida o se è un libro scritto con passione questo libro oltre alla passione unisce proprio il rigore della scrittura una scrittura veramente perfetta direi quasi alla prusta e quindi tutto questo potrebbe sicuramente dare il giusto valore a questo libro che è una cosa veramente da portare oltre i confini nazionali perché come diceva lo stesso professore si rifà le guide anglosassoni no? in Italia ce ne sono poche di guide come queste quindi il mio augurio è che praticamente questo libro riesca ad avere il giusto merito il giusto riconoscimento e i complimenti agli autori se volete fare delle domande è stato qualche scoperta fatta negli anni che ha fatto chiedo e ha avuto anche nella situazione del barco e nella gestione allora dal punto di vista gestionale la scoperta di queste piante steppiche di questi relitti di 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 una flora diciamo preistorica semplicitando molto ha consentito di utilizzare diciamo una particolare categoria della direttiva habitat dell'Unione Europea perché le praterie steppiche sono strettamente tutelate dalla direttiva habitat e quindi questo ha consentito in alcune zone che sono esterne al perimetro del parco ma che ricadono comunque in un sito natura 2000 cioè quelle particolari aree protette in realtà molto blande che servono per l'ottempera direttiva habitat e che allora le aree natura 2000 che si trovano subito fuori dei confini del parco sono gestite dall'ente parco e quindi questo consentirà all'ente parco in queste zone fuori dei suoi confini di esercitare una certa tutela cioè si spera che il proverbiale capannone di cui parlavo prima non si potrà costruire perché chiunque voglia fare un intervento nelle zone natura 2000 gestite dal parco deve prima chiedere la possibilità valutazione di incidenza con una procedura legale che serve per comprare che non ci siano danni a quei tipi di ecosistemi tutelare l'attività abbiata siccome adesso il parco sa che lì ci sono le patrie steppiche e se uno può fare il capannone in teoria deve dire no tu il capannone lo fai da un'altra parte non qui al funzionale al funzionale della regione abruzzo che era presente quando qualche anno fa abbiamo presentato questa in convegno al parco che è preso abbastanza un colpo quando è venuta fuori questa cosa perché appunto le conseguenze gestionali saranno abbastanza importanti le altre conseguenze altre conseguenze dei nostri studi a carattere gestionali che mi vengono in mente riguardano il discorso appunto delle praterie perché noi durante una spedizione di ricerca internazionale che abbiamo coordinato nel 2017 in cui abbiamo portato esperti di prateria da tutto il mondo a rilevare le praterie del parco abbiamo scoperto che nelle praterie del parco l'abruzzo ci sta per il momento il record italiano di biodiversità cioè di densità di specie per metro quadrato semplificando molto e quindi da questo è partito tutto un insomma un dialogo con l'ente parco sull'importanza della pastorizia perché sia una pastorizia di tipo tradizionale e quindi sul rischio che l'abbandono della pastorizia che potrebbe sembrare una cosa naturale abbandonare la pastorizia in realtà porti a un danno per la biodiversità perché se tu veramente hai un ambiente naturale ok togli le regole e le mucche dovresti rimettere il bisonte come infatti stanno facendo in Romania chiaramente però rimettere il bisonte non è un'operazione banale per tanti motivi considerando tutti i problemi che abbiamo di accettazione sociale dei cinghiali degli orsi dei lupi che tra l'altro ha anche una densità abitativa che non è la stessa nella Romania quindi io non mi sentirei in questo momento di consigliare la rientroduzione del bisonte nell'Appennino e quindi però se tu vuoi mantenere certi processi ecosistemici e non vuoi rimettere il bisonte che c'era che c'era da 3.000 anni fa devi continuare a mandarci le pecore e i cavalli quindi anche questo ha portato una riflessione da parte dell'ente parco pensate che negli anni 70 una delle cose che fece allora l'ente parco aveva avuto un periodo parco nazionale abruzzo tra gli anni 50 agli anni 60 era stato assalito dalle speculazioni diilizia era molto debole politicamente era stato chiaramente danneggiato poi alla fine degli anni 60 venne un direttore molto energico che veniva dal mondo delle associazioni ambientaliste che era anche competente in maniera ecologica e cominciò a riorganizzare il parco molto seriamente e una delle cose che fece questo direttore fu quello di vietare il pascolo in molte zone del parco tra cui sopra il limite degli alberi in alta montagna perché all'epoca stiamo parlando del 69 70 sembrava la cosa giusta da fare peraltro il camuscio di Abruzzo rischiava l'estinzione insomma soprattutto non c'erano le conoscenze che ci sono adesso noi invece adesso sappiamo che questa cosa che adesso il parco di Abruzzo in molte zone dell'Appennino gli ecosistemi cominciano a soffrire per carenza di pascolo anziché per troppo pascolo cioè sappiamo che le cose sono molto più complesse quindi grazie ai nostri lavori cominciati nel 2013 con la professoressa Scopola la professoressa Cancellieri sotto la pioggia nelle praterie del parco stiamo insomma il parco è molto disponibile è molto interessato a questi risultati riguardo alla gestione dei pascoli stiamo ragionando su cosa fare chiaramente non è semplice cosa fare perché se il pascolo non conviene più o c'è tanti soldi come ci hanno in Germania in cui lo Stato compra dei greggi e ci sono dei pastori statali che vanno a portare le regole praticamente al guinzaglio dove serve però lì c'è denaro e volontà politica di interessarsi gli aspetti ambientali che sono entrambe cose che nello Stato italiano diciamo al momento sembrano essere meno disponibili in Germania e quindi altrimenti le cose sono molto difficili di trovare dei modi di incentivare i pastori che però giustamente non ci hanno interesse insomma economico ad andare in certe zone allora il libro premesso che noi autori che sono sempre facciamo il mercante in fiera premesso che noi autori non prendiamo un centesimo perché tutto il ricavato va all'ente parco per le sue attività di conservazione ambientale il libro è in vendita sul sito parcoabruzzo.it nella home page di parcoabruzzo.it in basso a sinistra c'è il pallino shop basta cliccare lì e ci sono tutti i libri del parco in vendita online poi abbiamo alcune copie che ci ha dato l'ente parco in conto vendita e quindi adesso uscendo da questo seminario in alternativa è possibile acquistarlo ora dai collaboratori della biblioteca e dovete cortesemente lasciare un recapito in modo che poi l'ente parco vi invia la ricevuta fiscale perché noi chiaramente qui non abbiamo registratori di cassa per farvelo ci sono altre domande bene vi ringrazio ringrazio tutti i presenti per essere stati qui con noi ringrazio la professoressa Scopola la professoressa Cancellieri e il professor Filibeck per questa bellissima e emozionante e affascinante presentazione grazie a tutti i persone della biblioteca per aver proposto e organizzato questa iniziativa grazie mille complimenti per la professionalità